Questo binomio purtroppo è eliminato In partenza numero 104 Kert Ecker-Valerie con Sisco Fermi, fermi, fermi Ancora sto cane qua Già secondo giorno Non abbiamo un guizzaglio per sto cane, no? Franco? Eh, lo so che è della Monica Ok, scusate Monica è scappato il cane, Monica Mayra con l'è scappata Monica, vieni a recuperarlo Dove salto in Gola? Dove salto in Gola? Ultimo salto Percorso netto Grazie a tutti Grazie a tutti